Non c'è il tempo di dormire! C'è un po' di dormire! Bella frate! Oggi abito a Palmanova insieme a Ivan Dronsi che è andata a pisciare adesso Oh secco secco Sono le nove e mezza frate Guarda mi è felice Campela Oh frate! Oggi è il compleanno di mio nipote Auguri tigro! Auguri da Palmanova Sì! Te l'ho preparato io? Vuoi vedere come fai? Igienico, igienico, igienico Non firmi la come hai preparato la tazza Va bene No, no, no Frate! Ecco un metodo busta Ivan Tronsi No, no, no! Coglione che sei! Oh! Questa devi togliere! La roppere il cazzo! Ok questa la tolgo dai! Ok la tolgo! Non ce la metto dai! Guarda c'è una vista dietro stupenda Guarda! Mennò non stavano anche filmando Niente male! Ogni tanto vedi spingo ma non parte Questa? È il destino Eh! Fammi dentro! Vai! Vado! Vai! La carta ovviamente la butti là dentro no? Dopo Ti faccio vedere Che cazzo da vedere? Fammi vedere! È bruttissima quella busta Ma che hai fatto? C'hai paura? Guarda con le due dita Mi sembra Danielisa uguale Poi Danielisa Progres! Progres! Frate questo è un passo avanti O no? Dai la tazza Hai visto com'è? Cioè come ti sei trovato? A parte i scherzi Come ti sei trovato? Cioè fa schifo? No! Siedi? Te pulisci In realtà butti la carta là Tutto via frate Subito subito Proprio! Caviale e tartufo Caviale e tartufo L'hai assaggiato già tu? Sì Però devi mangiare tutta roba buona là Mh? Di positivo c'è tanto dai Non è tutto negativo O no? Eh sì Non dai eh Oh le ciabatte Ma hai rotto! Guarda Ma perché? Stavo lì davanti Perché? Eh? No No basta che Guarda le mie qua Così Io però per far festarle No no porta le due qua Guarda vedi Ci entrano tutte le due qua Stai davanti a parlare No? Mh? Vedi? Apri le gambe E le ciabatte Non si spostano Che vorrei andare a cagare L'altra orta Mi hai detto busta Lo sai fare da solo O te la faccio io? Te è piaciuta? Era precisa quella Dai te la faccio dai Te la faccio rivedere di nuovo E tu mi filmi Le pulizie qua Che cosa pulizie? Che cosa pulizie? No Senti No lasciamo perdere C'è il sole Non so se domani c'è E se noi dobbiamo stare fuori Va bene papà Va bene dai Non ti ho detto Devi andare a scalare Non so montagne con dieci Sacchi da Mi cognato Non sono io S'omiglia? Lo sono io Vedi? Questo è Lorenz Andiamo Ivan Adeggi che così faccio Vieni Ivan No non devi fermarlo questo Oh come si fa la busta per l'altro Non è per te Allora non hai capito Io sto condividendo così Un altro che è interessato A vedere come si fa A mettere una busta Ok? Si Può avere un'idea Va bene Agli ordini comandante Lo conosci questo frate Lo conosci? Vuoi filmare come faccio la cosa? Vieni qua Vieni qua Sto filmando Ragazzi questo è matto Questo è matto Questo è matto Dai guarda sullo schermo guarda quello che sta rimando, lascia, lascia, lascia perdere la foto stai uscita la doccia Lorenz, eccomi si sta uscendo la doccia adesso ti faccio vedere in mezzo da busta una foto da buttare, vieni e ti faccio vedere attenta le corna guarda, e poi il tavoliolo, lo stai riprendendo? il tavoliolo così ok, questo ma questo è figa però, gli ordini del comandante, questo è figo ti piace questo? quella è Grecia, Corfu, 2000, 2002 io sto fuori c'è la luce, io pure dopo andrò al bagno, chiudiamo tutto e andiamo al mare oh, se ti va bene, non ti voglio costringere che eri su un platano, che eri su un platano no, per quelli sono i tuoi ti è felitto? il sole è figa, il sole è speranza, il sole è amore io sono colturi ragazzi, io pulso una corrente solare e io pure capesti, capesti capio, capio capesti non gridare che si sente subito solo i bambini gridano come te io sono anche un cane posso essere una persona posso essere un cane trasformador si è il conquistador, trasformador adesso vai a filmare gli aretre io non sono il tuo cameraman ok? io non lavoro per te e tu dici comandante va bene che tu sei peggio di me se io dovessi lasciarti fare a te fai uscire pazzo, io già lo so o no? ma frate, oggi prendevo l'internet qua le sole, mamma mia frate frate, oggi il 3 dicembre ma lo stai mutando, che cazzo te ne frega scusa? no, proprio il video selfie la pista vai vediamo subito vabbè, prendo un po' questi qua vedo se ti entrano c'entro sei volte vai, c'è meno culo di me più stretti no, c'è questi più stretti se no aspetta, aspetta se no c'è questi qua che forse sono un pochino meglio ok per te, guarda se la gente mi sta guardando poi alla fine stiamo di fronte al mare ma sto nudo sto in mutande io credo che l'estate ciò che io stia facendo ora non vale nessuna differenza no? i miei sono ti piacciono? guarda che sono i miei veramente questi te l'ho detto sono i miei veramente questi me li ha dati mia sorella che l'ha trovata in albergo certo non l'ho pagati l'ha trovata in albergo e l'ho tagliati poi stanno bene facciamo a cambio no? facciamo a cambio io li do questi tu lasci la copertina questo? no io ce li ho questi ce li ho due tre paio e non li vuoi? ah dici mi lasci direttamente la copertina ok poi entro le tre facciamo la doccia ok? ok non ho sentito yes comandante si comandante oh questa è una bella foto aspetta ora te la faccio eh guarda da solo in teoria dice serrata chiusa però funziona questo è un regalo che ci fa il comune di Palmanova che hai regalato? la doccia che funziona perché c'è scritto serrata andiamo? davai arrivo che devi fare ancora su internet? da quando sei arrivato che stai su internet? nel ferro di responsabile no? no allora ti faccio anche un montaggio di tutte le volte che stai su internet vediamo quante volte sì sì dai che è tardi è già luna guarda che non dura tanto il sole alle cinque già non c'è più siamo solo quattro ore dai lo fai dopo no? dai 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 con chi ti stai messaggiando? con i tuoi cinque mila amici? su facebook? diman c'ha cinque mila amici su facebook non mi va? si vai arrivo vaffanculo vabbè dopo ci alleniamo direttamente appena esco? ecco 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 i nostri pesi per oggi frate due bottiglie da otto litri vedete 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 puoi fare un sacco di cose vabbè iniziamo quando vuoi se riesci a staccarti da quel telefono possiamo iniziare devi dirlo sempre solo la telecamera che fa il telefono devi dire sempre non è per la telecamera stusso prima era stretta la telecamera te l'ho detto mi sembra non male mi sembra non male abbia detto questo? cattrata all'angoletto là fuori l'è questo vado lo spegno? lo spegni auguri christian 13 anni no oggi? eh eh continuano le riprese frate per il nuovo video intitolato il video selfie di Ivan Tronci sto usando il treppiedi l'attore oggi si sente molto bene si sente in forma preparato auguri christian auguri christian abbiamo finito frate con le riprese del grande movie bainato straniero che è quel sorrisino là? quel sorrisino dice tutto eh? vero? guarda Lerio guarda adesso adesso mi sono ricordato frate credi sempre stiamo così eh? a Palma di Majorca dico a Tenerife te lo aspetti pure dici sai Tenerife Canarie il tempo è questo ma a Palma di Majorca non lo so siamo dietro oltre la Sardegna non è che siamo altezze di Roma eh 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 non dovina perché guardano? eh? perché sono carino? sei bellissimo ti l'ho detto già l'altro giorno ritornati nel campero frate no ma quando faccio la mia cosa eh che fai? miro naturale fare così miro naturale eh eh faccio io vedi che arrivo sono le 2.35 ancora dobbiamo mangiare vabbè oggi ci sta perché c'è il sole e sti cazzi di mangià ci nutriamo dell'energia solare che chissà domani e qua non si sa capace domani fa brutto tempo quindi bisogna approfittarsene di questo momento questa? no l'acciaio di plastica l'acciaio che sta sotto quella del cane no l'acciaio di plastica è già sporca ok non può sporcarne un'altra hai visto? tu dissi chiaramente mi pare guarda che metodo che stai usando adesso che metodo qua eh metodo proprio dietro così salto metodo salto quello si chiama ahahahahah senti io sono sicuro a te ti mancherà questa telecamerina in faccia ogni volta non credi? no secondo me si perché dà fastidio all'inizio ma poi dopo ti manca un po' come te insopportabile questa telecamerina però poi quando non c'è ti manca? è vero oh ti ha mandato un bacio la signora allora Ivan va a vedere se ci sono i granchi io invece un altro bagno al mare e la doccia molto importante very important no mi metto qua con la canna da pesca mi metto qua con la canna da pesca e qua queste padelle ci sono no? no? ahahahahahahahahahahahahahahah 徹 non ti sorprende se comincierei a dire anche tu no? 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 ahahahah ahahahahahah Vabbè, fratello, io continuo con il mio piano. Bene? Qual è il tuo piano? Bagno e doccia. Mi voglio lavare. Scusa, ma c'è un pietro là? Dove? Cazzo, me la fotte dalla gente. Che me frega? Oh, io mi devo lavare. C'è una ragostina, ragazzi, una ragostra piccolina. Oh, cazzo, mi sembrava. Come lo prende il granchio? Con le mani. Con le mani? Ho preso i ricci. Che stia mi dici? Però devo scendere. Quanto sotto, scusa? Non ho tanto, non ho tanto, non ho qua. Ma sono buoni questi, sicuro? Sì, sono buoni. Vedi, ve li ho preso lì. Oh, io vado, sto a sentire freddo. Senti l'eco. Voilà, le geste sono freddo. Capesti? Dai, porta il coraggio. Oh, oh. Il mio è il nome. Ma qui c'è freddo? Che mi fude rossia. Vado, vado, vado. Uh, che da buon è stato fatto. Vado, 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 vado. No, bradè. Ci siamo riusciti pure oggi. Vai sui scogli, vai. Vai, vai sui scogli. Io non ci verso la propria. Ma che sei amato? Io mi metto qua, con sto freddo. Andiamo sui scogli a fare l'aperitivo. Un attimo. Ma stai, perché queste cose romantiche? Ma quali romantiche? C'è come nell'acqua. C'è come la visione dell'acqua di mare. Così, come un romantico. Proprio da mariniero. Aspettami un secondo che mi asciugo, no? Io ho i capelli lunghi, a differenza di te. E' un attimo, guarda come sto. Ma dove vado? Ma dammi un secondo, no? Mi fai fai subito a perdicoli, ricci. Eh, io pure. Mi sto a morire fame. Ma che palle! Mi è andato in fissa che vuole fare l'aperitivo sui scogli. Indannato. Quale scoglio hai scelto? Punta, andiamo. Quale punta? Il faro. Ma non so faccio il tipo da questo faro. Non so faccio il finaggio. E questo che si fa adesso? Si butta dentro l'acqua così, sto pane e basta? Al volo, tipo? Eh? Come si mangia sta cosa? Nudo. E poi togli sta cosa per me. Ma che fai? Mi sono beccato. Ma cosa cazzo fai? Ma non posso stare a mangiare che tu sei nudo? Mi faccio stare. Che bella idea che ha avuto in vano. Se sta bene qua, eh? Grazie che mi hai portato qua fuori. L'hai finito tutti i ricci? I ricci li ho fatti finiti, ci mancano tre. Mi sono mangiate le cozze adesso. Ma infatti io non è che andavo pazzo queste cozze padelle qua. Le vongole volevo? Io pure, non era cotta vorrei. Quella è una bella foto con la barca a vela là, guarda. Se proprio vuoi, guarda. Comunque quello pensavo, da un'estremità all'altra tu, passi da cucina 12-15 ore di lavoro a questo, al bambino che non vuole più tornare a casa, che vuole stare al mare, dentro l'acqua. Guarda, guarda, guarda. Cioè, c'ha le macchie rosse sul corpo. E tutti li potete ho preso e sgogli. Ma non c'hai freddo. Ti mangi ricci e poi andiamo. Sto congelando con le friselle, tra l'altro. Davvero Salentino. Ricci e friselle. 3 dicembre. No, io, cioè, ma stiamo lì dal freddo. L'ho detto a te pure che tremi? Non c'è, andamosene, perché? Davvero Salentino. Il pomarone non è buono, però. Certo che è buono. Non deve essere rosso. Sono baroncini, sono aggellini, rossi. Dipende. La doccia devi fare. Sto morendo. Senti, ma partiamo adesso? No. Non partiamo? No, un attimo. L'asciugamargolo piccolino è mio. Marro, dammene uno o due, Bianco. Sì, quello che mi hai regalato te. Mamma mia, che giornata, frate. Andiamo prima da Mercadona a fare spesa e poi dopo Polva di Mallorca. Cos'è? E che no. 7,35 euro. Un botto. Cioè, che orrore. Stiamo dai rossi? Perché Ivan non vuole fare 500 metri per arrivare da Mercadona. Non solo 500 metri. E ci mangeremo... Di un saluto? No, a me va. È bruttissimo. È veramente brutto. Quindi fai tu, guarda, prendi quello che vorresti mangiare tu stasera e fai per due. Ok? Senti, ma tu vedi quanto costa la feta qua? 3,69 euro. È carissimo. È veramente caro. È per inglesi, perché questa è una zona inglese, quindi giustamente loro mettono i prodotti che consumano gli inglesi. Perché paghi tu, perché sennò io proprio... Io sono venuto un giorno qua, ho preso solo un succo di frutta perché non sapevo dove era Mercadona. Penso e penso proprio, non so perché. È proprio fedele. Come con le donne, frate. Se sta con una donna, sta con lei e basta. Dovrite a friggere, non vedo. Qua sulla sinistra, proprio davanti a sinistra. Quattro le prendiamo, quattro? Sei. Non sono felice. Am I not a happy? Non c'è una bilancia, vede. No, credo lo pesano loro. Tu che sei cliente fisso. No, no, io odio quel nome. Andavo quando stavo a Ibiza. C'era Mercadona Ibiza. Andavo da... 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 40. 20, 25, 26... Per me Eroski è un signor supermercato. Vero signorina? Non la salgo. Va bene, andiamo. No, Mercadona è migliore. Sto spezzando. Per potere è molto meglio. Però, i prodotti che abbiamo scelto... Alla Lorenz. Alla Ivan. Con molta accortezza sul pezzo. Alla Ivan. Ah, bello. Già. Prima, prima, prima sì. Che cucinavo una volta a settimana. Perché mangiavo al ristorante. Non badavo a spese. Guardavo quello che volevo. E prendevo. Adesso invece sto attento al chilo. Mi guardo il chilo. Cioè quanto costano al chilo. Dai, fratello. Ancora è la Jaanz. Andiamo. Un chilo.